L'Aquila si è svegliata stamattina coperta da una leggera coltre di neve. Pericolo ghiaccio in alcuni punti della città e soprattutto nelle strade più impervie e nelle frazioni. Ghiaccio sotto e neve sopra, qualche disagio alla circolazione per questo motivo. Il sindaco intanto questa mattina ha firmato l'ordinanza numero 92 con cui ha disposto la sospensione dell'attività didattica negli istituti scolastici di ogni ordine grado del territorio aquilano. Il provvedimento è stato emesso in virtù della nevicata che ha interessato la città da questa notte. L'avviso meteo emesso dal Dipartimento di Protezione Civile della serata di ieri per le successive 12 ore prevedeva quantitativi deboli di precipitazioni nevose. In virtù di questo avviso l'amministrazione e i suoi dipendenti hanno monitorato durante la notte l'evolversi della situazione al fine di valutare eventuali provvedimenti da adottare. Dalle 3 e mezza di stanotte sono in azione 6 mezzi Spartineve e Spargisale Unimog del Comune e 12 operai del settore per Repubbliche che hanno lavorato prevalentemente sul territorio cittadino mentre le 5 ditte convenzionate con l'ente si sono occupate di liberare le strade degli accumuli nevosi nelle frazioni. La sospensione delle elezioni è stata determinata dalle moderate precipitazioni nevose soprattutto nelle frazioni e nelle aree più in quota ed è la prevista variazione delle temperature che avrebbe favorito precipitazioni a carattere piovoso una circostanza che favorisce la formazione di pioggia congelata a contatto col suolo dal momento che il terreno impiega più tempo a riscaldarsi rispetto all'atmosfera. La vera insidia pertanto è rappresentata dal possibile rischio di formazione di uno sottile ma insidiosissimo stato di ghiaccio sulle arterie stradali cittadine. Stando alle previsioni meteo infine le precipitazioni nevose non interesseranno più il nostro territorio e pertanto nella giornata di domani le elezioni riprenderanno. Sono stati consegnati inoltre il 42 scuole sacchetti di sale da utilizzare nelle zone interne delle scuole scalinate, rampe per portatori di handicap e spazi comuni. Negli uffici di via Luissa e Nuzia sono attive la sala operativa Neve, il numero telefonico 0862 645590 per eventuali segnalazioni.